Si parla sempre di radiofrequenza e dei risultati che può dare, ma è sempre la soluzione? Qui accendo un polverone, però prima di dire cosa penso voglio dirti che in istituto abbiamo 5 radiofrequenze e ci lavoriamo parecchio, sia sul corpo che sul viso, ma come dicevo poc'anzi non è la soluzione a tutto. Sia un corpo rilassato e sia sul viso ceduto. Non lavoriamo solo con la radiofrequenza, ma prima di tutto si prepara un corpo idratandolo e stimolandolo. Se non si ha acqua a sufficienza non è possibile lavorare con le correnti. Quindi per favore diffida da chi ti propone solo questa apparecchiatura come miracolosa. Ma chi sono io per dire tutto questo? Mi presento e sono Pamela Scribano e sono ideatrice dei metodi rimodelli di addome e fianchi e ideatrice del metodo lifting e non chirurgico. Ad oggi ho aiutato tantissime donne a ritrovare la loro forma ideale, guardarsi allo specchio e sentirsi rinata. Quindi se anche tu sei curiosa di capire perché il mio metodo è differente, clicca qui e prenota una consulenza. Io sarò felicissima insieme alle mie collaboratrici di prenderci cura del tuo corpo e del tuo viso. A presto! Grazie! 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 Grazie!